Lecce non è una città sicura. Lo hanno ribadito in coro questa mattina i consiglieri di opposizione di Palazzo Caraffa che hanno invocato interventi immediati da parte dell'amministrazione comunale. A far scattare la levata di scudi è stato l'accoltellamento di un uomo all'interno della villa comunale, unico polmone verde nel cuore della città a due passi dalla centralissima piazza Santo Ronso. Tutti concordi nel ritenere che servano maggiori controlli per monitorare le aree più a rischio come la stazione ferroviaria, ma il problema è sempre lo stesso, manca il personale. La conferma è giunta dal vice comandante della polizia locale di Lecce, Sandro Negro, che durante i lavori della commissione controllo, convocata dal presidente Giorgio Pala, ha snocciolato numeri preoccupanti. Il comando può contare su 84 unità di cui 22 part time. Dalle 21 alle 24 abbiamo a disposizione una sola pattuglia e non riusciamo ad effettuare il servizio congiunto con polizia carabinieri. Ha fatto sapere il numero due dei vigili urbani di Lecce. Ma quel che è peggio che di notte, tra la mezzanotte e le sei del giorno dopo, ora in cui la sicurezza urbana è messa a dura prova, non c'è nemmeno l'ombra di una pattuglia. Un incremento di personale sarebbe auspicabile, ha ammesso lo stesso vice comandante della polizia locale. Oltre alla villa comunale, i luoghi meno sicuri sono la zona attorno alla stazione ferroviaria, piazzetta Alleanza e il centro storico. Oggi la nostra città non è sicura, è sotto gli occhi di tutti. Attacca il consigliere Giampaolo Scorrano che ha chiesto la convocazione di un tavolo interistituzionale. Il consigliere Roberto Giordano Anguilla invece ha ricordato una mozione, proposta peraltro dalla maggioranza, con la quale si chiedeva il trasferimento dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di alcune unità in carico alla polizia locale. Siamo ancora in attesa di risposte. E risposte si attendono anche sull'installazione di nuove telecamere. Il consigliere Giorgio Pana è tornato a chiedere invece l'istituzione del poliziotto di quartiere almeno nelle ore serali. La vicenda sicurezza farà Capolino nuovamente in aula consigliare. Appuntamento già fissato per lunedì 2 ottobre, potrebbe essere l'occasione per un confronto anche con alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine.